Fratelli rossoneri sono tornato! Mi è tornata anche la voce, mi è tornata anche la voce, la febbre è andata via, il raffreddore quasi, la voce mi è tornata e il cervello è rimasto come prima, è rimasto sano, anche se mia moglie dice che ogni tanto mi scende la catena e va registrato, però il cervello è sano, al contrario di alcuni, perché ieri ho visto tanti complimenti al Milan, ci mancherebbe ragazzi, non è che si poteva pretendere l'America ieri sera, però qualche d'uno è caduto dalla biciclettina e oggi sono qua in forma per voi, per parlare della partita di ieri, ma per fare un culo così a tutte quelle persone che ieri sono scese dalla biciclettina, che ieri si stavano buttando nel naviglio, perché per loro da ieri sera è successa una catastrofe, il Milan in Champions fa cagare, è una merda, non siamo pronti, ma cosa ci stiamo a fare? Nooo, ma sveglia, ma sveglia, il tifoso del Milan sostiene sempre la squadra, sempre e comunque si perde, il giorno dopo si va in giro con i colori del Milan, ieri sera io non ho potuto fare il video perché non stavo ancora bene, ma la partita l'ho vista, non ero rincoglionito, l'ho vista, è stata una serata diversa, non ho potuto gridare, non ho potuto esultare, non ho potuto fare il video dopo, ma la partita l'ho vista, e ho lasciato qualche post qua e là, di sostegno, forza ragazzi, orgogliosi di voi, e ci sono cascati, e sotto ci sono cascati, mi sono venuti a scrivere ciccicche, ciccacche, ciccicche, se questo è il Milan in Champions League Oh, io stamattina sono andato a bermi il caffè, con la maglietta del Milan, orgoglioso del Milan, il Milan si tifa quando si vince e quando si perde, sostenere il Milan è una ragione di vita, mettetevelo in testa, Non è che ieri il Milan ha perso, vi dovete andare a buttare nella video, se siete veri tifosi del Milan, iscrivetevi a questo canale, iscrivetevi a questo canale, qua si sostiene il Milan, sempre e comunque, e lasciate like, questo è il primo video dopo la malattia, ritorno a fare video, e già mi dove incazzare, manneggia a te manneggia Allora, prima di andare a chiarire questa cosa, parliamo della partita di ieri, io non ho nulla da dire ai ragazzi, secondo me non si poteva fare più di così, a parte i primi 20 minuti, Secondo me mister Pioli aveva impostato così la partita, cioè aspettare Liverpool per poi colpire quando ce n'era l'opportunità, e stava succedendo, stava accadendo questo, perché il Milan a un certo punto si trova 2-1 in vantaggio, però ragazzi, la partita di ieri ha messo le carte in tavola, ha fatto vedere la differenza tra Liverpool e il Milan, ci sono anni luce, Noi abbiamo ancora molto e molto e molta strada da fare in Europa, gli unici due che potevano dare un po' più di esperienza ieri sera erano Zlatan Ibrahimovic, e non c'era, Giroud ed era in panchina Il resto erano tanti ragazzi del Milan che correvano all'Anfield, tanti ragazzi giovani che si presentavano alla prima volta in Champions League, e non si poteva pretendere altro, non si poteva pretendere altro La partita inizia malissimo, 20 minuti da dimenticare, eravamo briachi del Liverpool, non sapevamo manco come eravamo messi in campo, non riconoscevamo manco più le nostre maglie Il Liverpool ci colpisce, sbaglia i rigori, anzi pare il rigore Magna, perché l'ha parato il rigore, uno dei migliori in campo tra l'altro, perché non solo per il rigore E poi il bello del calcio vuole che ci troviamo in vantaggio, con due occasioni, due tiri, due gol Il Milan si trova in vantaggio, ma il bello del calcio è anche questo, non si può tutte le volte giocare bene e vincere, a volte si vince anche magari non meritando Il Milan non meritava in quel momento di essere in vantaggio, eppure il Milan si trova in vantaggio 2-1 Il Milan tiene quei 10-15 minuti e poi un'altra volta pareggiano e poi su un altro errore nostro, perché il terzo gol è un errore nostro Perché non si può lasciare un difensore, scusatemi, i difensori del Milan non possono lasciare il giocatore del Liverpool lì, al limite dell'aria, in attesa del tiro Perché qualcuno ci doveva essere lì a marcare l'uomo, secondo me su tre gol, due è colpa nostra Però ragazzi, a prescindere da questo, non si poteva pretendere il mondo ieri sera Abbiamo giocato contro una squadra, la squadra secondo me più forte in questo momento in circolazione Insieme al Chelsea, insieme al Manchester City Una delle squadre, le favorite per la vittoria della Champions League anche quest'anno Voglio vedere, e sono curioso, le altre squadre quando si presenteranno ad Anfield cosa faranno Io questo lo voglio vedere Nonostante la sconfitta io sono orgoglioso di questi ragazzi, a parte i primi 20 minuti Perché secondo me poteva anche finire in pareggio L'abbiamo tenuta lì fino all'ultimo, una punizione, un calcio d'angolo, un rigore Non si poteva mai sapere, poteva anche finire a 3-3 Tanti ieri sera ci davano per una goleada del Liverpool, ci davano per spacciati Così non è stato Così non è stato, vi ripeto, voglio vedere alle altre squadre cosa faranno quando vanno a giocare Lì contro il Liverpool in casa loro Avevamo contro il pubblico Una squadra assolutamente fortissima, già preparata, velocissima Noi ragazzi siamo tutt'altra roba in questo momento E cosa fanno? E cosa fanno tanti tifosi milanisti al posto di sostenere? Tanti l'hanno fatto ragazzi, per carità di Dio ho visto tantissimi commenti, video positivi Orgogliosi dei ragazzi Ma tanti cosa fanno? Incominciano già a fare i drammi Eh ma se questo è il Milan in Champions è meglio che non andavamo Era meglio che stavamo dove eravamo Non è possibile dormire così i primi 20 minuti Se andiamo avanti così ne prendiamo 5 a partita Non siamo ancora pronti per la Champions League Questa è la realtà Facciamo cagare in Europa Ma ragazzi! Ma ragazzi! Ma è la Champions League del Milan? Dopo 7 anni? Cioè ma cosa pretendete? Cosa pretendete? Che il Milan ieri andava a devastare Liverpool? Andava a Danfield a devastare Liverpool? Che andava a comandare a Danfield? Dopo 7 anni con questi ragazzi giovani che si presentano? Ma ragazzi! Ma il Milan piano piano farà la sua strada anche in Europa L'obiettivo del Milan in questo momento non è vincere la Champions League È rimanere in Champions League ogni anno Per poi mano a mano, mano a mano migliorare sempre di più Però ragazzi! Non possiamo subito cadere in drammi sotto nei post Scrivere Eh però! Cioè ieri è un disastro! Ieri non si può perdere così! Ma era il Liverpool! Era il Liverpool! Chiunque va a giocare a Danfield contro il Liverpool Ragazzi! Viene bastonato! Viene bastonato! Ma è una squadra assolutamente incredibile su tutti i piani Velocità, fisicità, tatticamente Cioè ragazzi! Ma stiamo scherzando! Non si può andare a fare dei drammi Per una sconfitta contro il Liverpool Che ma io dico Le cose vanno fatte piano piano Adesso io non vi dico che vinceremo la Champions League Ma la partita di ieri ha dimostrato Che possiamo divertirci quest'anno in Champions League L'importante è rimanere in Champions Avere continuità in Champions League Poi piano 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 ragazzi Ci toglieremo le nostre soddisfazioni anche in Champions League Però ragazzi! Non si può cadere nel dramma subito Come ho visto ieri sera alcune persone Cioè ma stiamo scherzando? Comunque! Mi raccomando ragazzi! Dopo questo discorso Iscrizione al canale Vado a lavorare Lasciate il like Che è sempre forza diavolo Testa sgombra Perché domenica c'è la Juve Non voglio più sentire questi discorsi Sempre forza diavolo Non voglio più sentire questi discorsi